chi è prima in classifica adesso? chi ci deve leggere la targa? chi ci deve leggere la targa? chi è prima in classifica adesso? si 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 cazzo si grandi ragazzi grandi ragazzi però un primo tempo da vomito da vomito primo tempo da vomito da vomito da vomito da vomito da vomito io pensavo che in panchina c'era ancora Allegri sul primo tempo io non ho visto la partita però ho visto il bugiardino lì ho detto ma che cazzo ma questi qua non hanno fatto neanche un tiro in porta al primo tempo c'è una roba uno schifo totale al primo tempo ho sentito anche adesso ancora venendo a casa la disamina di qualcuno che ha visto la partita ma già immaginavo vedendo il come si dice il porca miseria il coso lì della partita il risultato le statistiche ecco della partita porca miseria dico al primo tempo ero incazzato nero ero lì che mi siavo pesce ero fuori come un lumino ero fuori con i gangheri ma non è possibile qui qui andiamo di nuovo via con lo 0-0 ero preoccupatissimo poi quando a un certo punto a un punto certo e apro il telefonino vedo 2 a 0 e vedo chi ha segnato Vlaovic ha segnato Bidon Vlaovic lì quello col piede cubico lì come mai come mai ho sentito che rigore netto che non venga fuori qualcuno a rompere i coglioni rigore netto e poi il secondo gol su Astrid di Coppemeyers e poi cosa vi ho detto il terzo gol chi l'ha segnato con Sensau ragazzi guardate che forse il miglior acquisto che la Juventus ha fatto sapete che io per Coppemeyers avrei fatto carte false per averlo ma io penso che il miglior acquisto fatto dalla Juventus sarà il piccolino con Sensau vedrete le mie parole che il migliore il migliore in stagione sarà questo con Sensau a parte Bremmer monumentale Bremmer ormai è una certezza Bremmer se Gatti è The Rock Bremmer è heavy metal è heavy metal Bremmer Calulu Calulu grande Calulu ho sentito anche ma di Caluli ormai prima centrale poi terzino Danilo male boh ma appena rientrato Danilo non può fare più l'esterno ma non può fare neanche centrale Danilo ormai è un calciatore al tramonto Danilo è un calciatore al tramonto io ringrazio ancora i milanini che ci hanno dato Calulu vi ringrazio perché quello veramente è un signor calciatore io avevo paura per la tenuta atletica perché l'altro anno era rotto aveva avuto tutti i problemi non aveva mai giocato però quest'anno ragazzi miei si è rimesso in gioco il ragazzo e sono molto contento ho sentito Fagioli bene, McKennie non bene Coppemeyers bene Ildiz sotto tono ho sentito Consensao grande Mal Maluccio anche Nico González e Vlaovic nonostante che abbia segnato poca roba poca roba vedremo con questo Vlaovic però noi abbiamo un problema Houston abbiamo un problema se questa Juventus quando sblocca la partita se avete notato gioca bene poi gioca bene si molla e comincia a giocare tramite gioco perché gioca bene la Juventus non potete dire che gioca male però quando non trova il bandalo della matassa quando non riesce a sbloccare la partita è un dramma ragazzi è un dramma è un dramma io spero che Tiago Motta riesca a trovare questo filo questo filo che che riesca ad unire questo filo che parte dallo 0-0 allo sblocco della partita che trovi qualche soluzione perché se no se no ragazzi continuiamo sempre 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 sulla stessa falsa riga comunque miglior difesa d'Europa imbattuti da quando è arrivato questo questo qui è il cimeglio portafortuna ve l'ho detto questo è il nostro cimeglio portafortuna questo qua adesso siamo primi tranquilli in solitaria aspettando mi pare che il Torino deve giocare adesso non so neanche con chi cazzo gioca poi chi poi chi deve giocare ancora il Napoli ovviamente il Napoli l'Udinese le ha buscate ma adesso no ve l'ho detto anche sull'altro video è normale che un Udinese chi ha giocato mercoledì sera debba giocare il sabato alle 3 contro quelli là la domanda punto di domanda poi voi direte ma anche il Geno ma il Geno ha giocato la sera aveva un po' di recupero in più con quelli là è così con quelli là è così quelli là poi quando gli dici che si fanno i calendari si incazzano si incazzano poi ho sentito anche per concludere il video ho sentito anche il video di Cosoli del Sergio io non ho mai sentito uno juventino io non ho mai sentito uno juventino augurare la morte o malattie a qualche interista non l'ho mai sentito io perché noi ci scorniamo vi diciamo di tutto come voi ci dite di tutto ma io non ho mai sentito un juventino che augura la morte o malattie a qualcuno a qualche interista invece ci sono interisti che fanno questo che fanno questo siete veramente degli sporcaccioni siete veramente degli sporcaccioni siete una tifoseria veramente di merda di merda a me dispiace per i quattro amici che ho fuori qua che ho fuori qua perché sono persone d'oro ma i youtuber che girano veramente sono di una cattiveria ma di una cattiveria bestiale poi parlate male del Sergio parlate male di Gigio parlate male di quelli là parlate parlate pure male augurate la morte augurate le malattie augurate i figli ma siete proprio degli schifosi siete proprio degli schifosi io non finirò mai di dire che siete cattivi che siete cattivi a parte il caglio siete veramente cattivi con questo chiudo il corso domani parleremo bene della partita sono contento guarda che hai rischiato la flex e c'erano pronte anche le mazzette c'erano pronte anche le mazzette hai rischiato la flex Tiago attenzione perché il primo tempo c'è qualcosa in questa Juventus c'è qualcosa ancora che non va a parte che questa Juventus è ancora incompleta questa Juventus ha bisogno di un centro avanti un centro avanti ha bisogno ancora di qualcosa di un qualcosa di un qualcosa vi ricordate quella pubblicità Ambrogio ho bisogno di un certo languorino e ti dà questo Ferrero Rouchet a noi manca il Ferrero Rouchet a noi no manca che Giuntoli prenda questo beh manca che Giuntoli compra questo Ferrero Rouchet da mettere da mettere tra il centrocampo e l'attacco o in attacco ci manca uno uno per completare completare perché questa Juventus è completa al 90-95% io lo continuerò a dire sempre l'Inter è completa e il Napoli è completo il Milan insomma vedremo il Milan quanto durerà ancora vedremo quanto durerà l'entusiasmo del Milan poi comunque ok ragazzi prima in classifica guardateci guardateci la targa continuiamo così va bene così intanto va bene prendiamoci così 0 gol ciubiti e andiamo avanti per la nostra strada ok ragazzi un bacione a tutti i belli e brutti altro non c'è da dire ci vediamo alla prossima iscrizione al canale le campanellina mi raccomando mi raccomando andiamo avanti per la nostra strada sapete che Michelone vi vuole bene iscrivetevi al canale perché il prossimo premiato il prossimo mese ci sarà un altro premiato per una maglietta o la maglietta diciamo la maglietta originale della tua squadra del cuore tipo questa la vuoi questa originale allora iscriviti a Michelone supporta Michelone o abbonati anche a Michelone ok perché con Michelone non perdi niente ciao raga e fatti bravi grazie a tutti